Buongiorno a tutti, siamo di eSoftware, mentre noi proponiamo la Match Analysis che passa da un sistema altamente complesso utilizzato dalle squadre professionistiche e calcio internazionale a un sistema scalabile e utilizzabile da tutti, come attraverso un parastinco che permette di ottenere informazioni non solo riguardo alla performance, quindi quanto uno ha corso, con che velocità, ma soprattutto riguardo a informazioni tecniche, cioè quanti tiri, in che posizione, con che forza, quanti passaggi eccetera e questo ci permetterà di avere un'idea di quanto è il valore del giocatore e la performance del giocatore ad ogni livello, sia nel settore giovanile che per quanto riguarda i fan, gli appassionati, i giocatori amatoriali. Grazie